Papà, Vanessa dice che andiamo a mangiare la pizza. Sì, appena la mamma torna dal lavoro. Non fa niente se non vengo. L'unica volta che ti sei perso una pizza è stata quando ti sei tolto le tossine. Il fatto è che ogni volta che vengono Vanessa e Janet finisce che mi prendono in giro per come mangio. Certo, perché sei un buffone. E la verità, quando arriva la pizza tutti quanti aspettano per lasciarla raffreddare. Tu fai eccezione. Sono anni che ti diciamo la stessa cosa. Aspetta, scotta, ti ustioni. Se non interessa, afferri il coltello, ti tagli una fetta gigante, la sollevi, la mozzarella liquefatta fila da tutte le parti, ti cola sul tavolino, sul tovagliono, nel bicchiere e tu con gli occhi di fuori spalanchi la bocca, dai un morso e ti si vede il fumo uscire attraverso i denti. Quando ti esci anche dalle orecchie cominci a grognire. Allora cosa fai? Sputi tutta la fetta, ti restano attaccati i fili della mozzarella, altri continuano a calarti sul tavolino e tu fai sempre... E afferri tutto quello che ti capita. Hai presente quella volta che hai preso una coppa di champagne di alcune persone che erano appena andate via e dentro c'erano quattro o cinque mozziconi? Hai bevuto tutto e hai fatto come... Andrò, 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 andrò. Vado a prendere la giacca. Ecco, è un'idea.